Si comincia domani nel suggestivo scenario del Museo Archeologico di Camarina, tre serate nel segno dei corti targati Videolab Film Festival. Quest'anno è arrivata la 14esima edizione e proprio quest'anno la Kermess si rivolge a tutti gli autori del cinema breve dell'area mediterranea che si occupano di finzione e documentazione. Un particolare riferimento viene inoltre riservato ai corti di forte impatto narrativo e la riflessione sulla scrittura sarà anche quest'anno uno degli aspetti su cui punta il festival. In questa edizione figurano inoltre per la prima volta una serie di corti mediterranei, in particolare tunisini, ma non solo perché ci sarà anche la presenza di lavori spagnoli, italiani e italo-americani, segnale questo di una manifestazione che allarga i propri confini e vuole sempre più proporsa a livello internazionale. Ma la vera novità, gratificante, è che per la prima volta il festival riceve un riconoscimento siciliano. L'assessorato regionale al turismo e spettacolo ha ritenuto infatti il festival degno di entrare nel circolo ristretto delle manifestazioni cinematografiche che rappresentano la Sicilia. Inoltre la personale di questa edizione è dedicata a Pappi Corsicato, un regista che il Videolab segue da tempo e adesso il suo cinema breve potrà essere mostrato agli spettatori del festival senza filtri e quindi nella sua interezza.